Oggi desideriamo pregare per quando soffrono gli ammalati che sono ricoprati negli ospedali, nei casi di riposo, per quando sono soli in casa, principalmente gli anziani, per i padri di famiglia che non sanno cosa fare per portare avanti la famiglia in questo momento, per quando non hanno lavoro e per coloro che avendo un lavoro in nero oggi non hanno più nulla. Ma vorrei fare una preghiera speciale per gli operatori sanitari e gli ammalati del nostro ospedale di Locris, questo ospedale è per noi molto importante, durante la visita pastorale tantissimi anziani, tantissimi ammalati mi dicevano fai qualcosa per l'ospedale, fai che l'ospedale non si chiude, noi ne abbiamo bisogno, noi abbiamo tantissimo bisogno, non possiamo andare a Catanzaro a Reggio, sono troppo lontani per noi, fai qualcosa per l'ospedale e vorrei proprio rivolgere questo invito a tutti coloro che ci seguono, alle autorità in particolare, a tenere conto della importanza strategica di questo ospedale di Locri, la soluzione del contagio del Covid-19 può essere risolta diversamente facendo riferimento ad altre strutture sanitarie dismesse che sono presenti nel nostro territorio, ma l'ospedale di Locri non può essere assolutamente toccato, è troppo importante per la salute dei nostri cittadini.